Buongiorno e bentrovati a questa nuova rassegna stampa di mercoledì 11 settembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale è dedicato all'Istituto Pio XII di Misurina. La regione, scrive il Corriere delle Alpi, conferma fondi e pieno appoggio. Il governatore Zaia ha incontrato i vertici del centro per l'asma, impegno perché sia riconosciuto come eccellenza a livello nazionale. Spiega in un breve riassunto pubblicato a completamento della notizia già fornita dal titolo. La regione Veneto non solo non chiude i rubinetti al Pio XII di Misurina, ma conferma il budget di 1.200.000 euro per l'anno di convenzionamento. Di più, si adopererà col Ministero della Salute perché la struttura sanitaria privata convenzionata, specializzata nella cura e nella riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino e dell'adolescente, sia riconosciuta come un'eccellenza nazionale, come punto di riferimento. Lo ha assicurato il governatore del Veneto Zaia, incontrando in municipio a San Vendemiano il management dell'Istituto. E dopo questo lancio, in prima pagina, andiamo all'interno del giornale, nella parte che viene dedicata alla provincia di Belluno, parte che inizia con alcuni articoli. Sulla scuola. Scuole in ordine sicure per gli studenti, molte le manutenzioni fatte in estate. Il comune ha rispettato le richieste che erano state fatte dagli istituti. Già nonne questo metodo funziona bene. Si tratta della situazione del comune di Belluno, al suono della prima campanella che ha riportato oggi in aula gli studenti. Investite in competenze, le nostre aziende vi aspettano. Questo è uno dei contenuti proposti nel messaggio rivolto dalla presidente di Confindustria al mondo della scuola, in particolare agli studenti. E c'è anche un messaggio del responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Gianni De Bastiani Battetevi per tenere gli istituti in montagna. Questa la sintesi che ne propone il Corriere delle Alpi. E sempre per quanto riguarda il mondo della scuola, vaccini oltre 60 indagati tra il Cadore e il Feltrino. Il NAS dei Carabinieri di Treviso ha scoperto molte altre autocertificazioni false. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono arrivate a metà. Si tratta della citazione per quanto riguarda le scuole della provincia di Belluno. Andiamo avanti ancora sul Corriere delle Alpi. In lab a confronto per disegnare il futuro. Sei tavoli di lavoro hanno affrontato tematiche culturali, sociali, educative, turistiche, ambientali e imprenditoriali. Processo del Vaillant, gli atti devono restare all'archivio di Belluno. E ancora, gli albergatori dicono no all'aumento dell'IVA per chi paga in contanti. Bocciata questa ipotesi da parte dell'Associazione dei Commercianti di Belluno e Provincia. Fuoco acceso e musica a palla. 13 denunciati nel parco. Un gruppo di veneziani ubriachi stava facendo festa all'interno dell'area protetta in Valle del Miss. I carabinieri sono arrivati grazie anche alle segnalazioni dei paesani di Sospirolo. Allagamenti a Cesana di Lentiai, l'assessore regionale Bottacin, eliminarli costerà un milione di euro. Sedico, erba troppo alta, maraga attacca, serve più cura. Giochi per i bambini e la pericena a Bribano. Sabato le due iniziative. Anche in questo caso siamo in comune di Sedico. E continuiamo a segnalare alcune notizie della provincia di Belluno riportate oggi dal Corriere delle Alpi. La montagna Alpagota diventa location del nuovo reality sedembrino di La Sette. Lo chef Riccardo De Prà ospiterà nella sua casa a Plois otto foodblogger alle prese con le difficoltà delle terre alte. Longarone, tutto pronto per la nuova fiera Festival delle Foreste che si terrà nel fine settimana al Palazzo delle Fiere di Longarone appunto. Schianto sulla gordina è gravissima. Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo della sua macchina e, a quanto pare, è andata a sbattere contro un camioncino. La giovane donna è ricoverata a Treviso ed è stata operata la prognosi e riservata. Gosaldo, erosioni e alve i colmi. Bisogna intervenire prima del brutto tempo. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Palloncino vola a Jesolo e dà speranza alla madre che ha perduto il figlio. Alla festa finale i bimbi hanno affidato al vento il messaggio. Il giovane era morto con altri tre amici in un incidente a luglio. Weekend con lo street food, musica dal vivo e gonfiabili da venerdì a domenica a Feltre. E ancora, questa volta da Cesio Maggiore, maestra trasferita lo sconcerto dei genitori. La notizia è giunta pochi giorni fa e a cui è seguita una lettera di protesta di alcuni genitori che sottolineano a rischio la continuità didattica e il rapporto con i bambini. Primi notatori in vasca la piscina di Santa Giustina, ora è un gioiello. Al primo giorno di riapertura, l'onda blu ha già raccolto delle adesioni ai corsi, impianto ammodernato e soprattutto reso più sicuro per il pubblico. E ci sono anche alcune foto che testimoniano quanto raccontato dall'articolo. Ed eccoci a Cortina. Sarà una stagione invernale nel segno delle tante novità. L'intera conca si prepara con nuovi impianti e ammodernamenti anche di piste ai grandi eventi del 2021 e del 2026, con preludio a marzo con le finali di Coppa del Mondo di Ski Alpino. Zaia conferma il budget al Pio XII di Misurina. E qui c'è l'articolo che approfondisce quanto abbiamo già sentito lanciare dal giornale in prima pagina. Pieve di Cadore, casa di riposo, inaugurati i nuovi locali ricavati nell'ex albergo Dolomiti. E ancora da Cortina. Tre clandestini nel cassone. Assolto il conducente del tir. L'autista riconosciuto estraneo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione. I minorenni si erano nascosti in mezzo al carico di angurie nel porto di Patrasso. L'arcivescovo di Cracovia sul luogo che ospiterà la croce a stile di Voitila sul Faloria in comune di Cortina. E sempre da Cortina, Terna continua il dialogo con i territori incontrati i proprietari dei terreni. Si programmano già nuovi confronti. Ci spostiamo per offrire nuovi servizi a tutti. Il titolare della farmacia di Lozzo di Cadore spiega le ragioni del trasferimento e assicura che andrà incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione. E da Comerico Superiore, Kral Ladin senza guida. Il sindaco sta a un nuovo polacco, meravigliato dalla decisione. Struttura attrattiva per noi è un fulmine a ciel sereno. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno che inizia la sua parte riservata alla provincia di Belluno con un titolo sulla scuola e in particolare sul nodo vaccini. Oggi in provincia inizia il nuovo anno scolastico e la procura rileva oltre 60 autocertificazioni fasulle. L'anagrafe scolastica registra 400 alunni in meno rispetto allo scorso anno oltre la metà nelle primarie. Isis, l'inchiesta bellunese, finisce con l'assoluzione. Appello bis e l'indagato non reclutò i due soldati partiti dalla provincia. Andiamo avanti nelle pagine interne del Gazzettino di Belluno. Al primo appello non si presentano oltre 400 studenti. A settembre 2018 erano 23.744. Questa mattina sono solo 23.332. A registrare il calo maggiore è stata la scuola primaria che perde 248 alunni. Saluto con rammarico per De Bastiani, il responsabile in uscita peraltro dell'ufficio scolastico provinciale. Rimane aperto il problema dirigenze. No Vax Bugiardi, 100 sotto inchiesta. Al giro di Boa l'inchiesta della Procura che sta analizzando le autocertificazioni presentate sull'obbligo vaccinale dei figli. Dopo aver analizzato metà della documentazione, ci sono un centinaio di indagati per falso tra Valbelluna, Feltre e Cadore. Al lavoro i NAS che stanno incrociando i dati dell'anagrafe sanitaria con quanto è stato dichiarato a scuola. Andiamo avanti. Maestra spostata, mamme e papà ora protestano. La notizia, come abbiamo già sentito anche dal Corriere delle Alpi, si riferisce al comune di Cesio Maggiore. Ci sono bambini che vengono qui da Feltre perché i genitori hanno scelto questo insegnante. Scrivono alcuni genitori nella loro lettera di protesta. Il cantiere è avviato tardi, tutti dirottati nei container. A Trechiana via agli adeguamenti studenti costretti nei prefabbricati. Disagi anche sul fronte della mensa all'assessore è stato inevitabile. Bus verso l'Alto Adige. 20 euro l'anno. Centinaia di euro risparmiati se il figlio studia dall'altra parte. In questo caso la notizia viene da Santo Stefano di Cadore. La mongolfira di Giorgia fa sorridere altri tre ragazzi. La ONUS raccoglie ed evolve quasi 5.000 euro per la disabilità. Grazie al contributo dei soci e alle offerte raccolte durante varie iniziative coperte le spese per le tre richieste che agevoleranno la vita di tre giovani portatori di handicap. Baby Bazaar all'orizzonte. Obiettivo 20.000 euro. Il circolo ricreativo dei Vigili del Fuoco li destinerà ad aiutare la pediatria. Casa dei beni comuni. Evento dedicato alle famiglie a Belluno. Domenica prossima. Ci sarà una proposta teatrale. Nuovo attacco. Questa volta il lupo sbrana l'asinello albino. Scoperta ieri sera a Tricchiana. Inutili i fili elettrificati messi in recinto. Stasera l'agriturismo Le Ronce ospita un nuovo incontro dopo i recenti casi avvenuti tra Tassei e Pian del Monte. Le nuove start-up entrano in rete con Industrio. Confindustria pattern della nuova azione a favore delle imprese. Tutti in strada alla scoperta dei sapori. La notizia viene da Feltre. Tre giorni di gusto e musica in città. Il Festival del Cibo inizia venerdì alle 18. Accenderanno ai fornelli 15 camioncini che proporranno 70 piatti diversi con 15 tipi di birre. Sabato la corsa a colori sempre a Feltre per fidarsi dell'affido nata per diffondere la sensibilità su questo delicato tema appunto degli affidi che aiutano bimbi in difficoltà ma che naturalmente si possono realizzare solo se si trovano persone, famiglie disponibili a questa pratica, a questo aiuto. Santa Giustina, piscina rinnovata, tutti in fila per il primo tuffo. Dopo un anno di lavori è stata riaperta lunedì pomeriggio la struttura che è stata sottoposta a un restyling. L'opera consegnata in parte con accesso alle vasche. Manca la palestra che sarà ultimata per ottobre. Salvare le razze autoctone di pecore. Un progetto alla Fiera del Bestiame. Con finanziamenti del piano di sviluppo rurale si punta a valorizzare il prodotto. Lavori a Cesana di Lentiai. Mai più case allagate. Un progetto da un milione di euro inserito nel post via metterà in sicurezza il territorio con sponde e maxipulizia. Ieri il sopralluogo dell'assessore regionale. I suoi tecnici. I detriti sono passati da 40.000 metri cubi agli attuali 500.000. Parchi abbandonati e l'erba alta in strada. È pericoloso. L'imana prospettiva futura lancia l'allarme segnaletica coperta con la richiesta evidentemente di un pronto intervento. Feste nel parco denunciati e cacciati in Valle del Miss. Dopo le proteste per la banda dei picnic notturni alla soffia i carabinieri li hanno smascherati e fermati. Sono 13 stranieri. I giovani, tutti dell'est Europa, arrivavano ogni fine settimana dal veneziano alla soffia. Accendevano fuochi e si ubriacavano. È scattato anche il daspo da Sospirolo per tutta la banda, oltre alle multe, per quasi 1700 euro. Si sono offerti per lavorare. Ecco premi ai 100 ragazzi in quel di Ponte nelle Alpi. Andiamo ancora avanti. Schianto contro un furgone. Vanessa lotta contro la morte. La 22N ha perso il controllo dell'auto a levare, invadendo la corsia in comune di Cencenighe. Soccorsa dell'elicottero è stata portata a Treviso, dove ieri è stata operata. Il Ponte di Cordo è rimesso a nuovo grazie ad Altivole. In questo caso la notizia viene da Teibon, distrutto da Vaia, adottato dalla Proloco del paese trevigiano. Raccolti 20.000 euro e la sindaca Tormen ringrazia. Per 11 mesi la ciclo penitenale è rimasta interrotta. Sabato la festa. Ed eccoci a Cortina. 5 ore per la nuova cabinovia di Col-Drucet. Montaggio a tempo di record grazie all'arrivo di un elicottero dalla Svizzera. L'obiettivo è di completarla per Natale. E' un impianto strategico per i mondiali. Sul Faloria le celebrazioni in ricordo di Giovanni Paolo II. Da Cracovia è arrivato Monsignor Jedrazewski. Zaia, impegno confermato 1.002.000 l'anno sul più dodicesimo di Misurina. Il presidente della regione incontra i vertici dell'istituto che voleva chiudere. Basta dire che vogliamo chiuderlo. E' privato, ma non ne avremmo i poteri. Lozzo, il farmacista promette, servizio a domicilio. A mettere in allarme il residente è stato l'annuncio del trasferimento della struttura fuori dal centro del paese. Trasferimento che il farmacista ritiene necessario per dare maggiore respiro alla farmacia che viene penalizzata dal continuo calo della popolazione del paese. Sul tavolo del neoministro il ripristino della Lavardette. Il deputato De Menek ha già protocollato un'interrogazione sulla strada 465 in comune di Santo Stefano di Cadore. De Bernardin, l'attuale maggioranza di Santo Stefano, nel primo consiglio comunale, l'ha definita fantascienza. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci. Grazie a tutti. Grazie.